Ok ragazzi, mi è stata l'Inter-Atalanta, ho paura, portiamo a casa tre punti, c'è la Lula là davanti, voglio il gol e l'assist di uno dei due come minimo. E in casi estremi abbiamo sempre la possibilità di fare la macumba con mamma Lukaku in casi estremi, quindi occhio. Dai ragazzi, buongiorno a mio Lukaku, distruggili. Subito Lukaku, vado da che lancio, Romelu, Romelu, lo salta, subito! Oh, su richiesta, 40 secondi e Pingu Sciamano dice, Lukaku fa i gol e Lukaku lo fa, 40 secondi, madonna mia tutti in piedi sul Livano, direi a qualche d'un. Madonna mia Lukaku, vostro muscoletto, così subito, madonna mia, Gasparini già incazzato a nero, mamma mia, che numero! L'unica roba, un attimo fuorigioco di rientro, con un attimo di paura. Giusto controllare, mi sa che c'è va il taco in fuorigioco, ma intanto il gol c'è, scontrolliamo, mi è venuto sto dubbio. Dove dare a play, ho paura. Ok, confermato il gol, ottimo, 1-0 dopo un secondo e mezzo più o meno. Bag da calcio all'inizio per l'Inter come su FIFA. Dai, facciamo le le 15, dai Lukaku, te l'ho detto, dai! Comunque ho chiesto, gol e assist di uno dei due, hanno fatto gol e assist, fantastico. Pingu Sciamano ormai mi fa paura a se stesso, si fa paura, è pazzesco. Guarda che bella! Vai Di Marco, non c'è nessuno in mezzo! Di Marco Diretto! Lautaro un aggancio della vita! D'accordo di Marco! Mannaggia Sportiello! Do Barella! Ma come giocano questi! Ha segnato anche il nano malefico! 3 minuti, 2 gol! Se giochiamo così con il City che ne diamo 15! Se facciamo così con il City, quittano direttamente, spengono la Playstation! Madonna mia che cattivi! Barella, vieni qua che ti adotto! Voglio adottarti! Come si adotta Barella? Di Marco! Occhio, calcio d'angolo, Atalanta, stiamo attenti, stiamo attenti, partiamo in contropiede, magari... Bravo, un'ana è morto! Ha fatto una strage! Ha ucciso un nostro, un Delori! Vai! Oddio, a Cervi impazzito in contropiede! A Cervi in contropiede, 1 contro 5! Sì, a Cervi, prova a casa... Ah no, sono impazzito! Cervi, Cervi parte in contropiede, tanto ormai! Manca solo che fa un gol di una besciata a Cervi e siamo a posto! Oddio, a Cervi è impazzito in contropiede! A Cervi, è matto! È matto! A Cervi, prova! Madonna mia! Al volo! Ma beh! C'è... Ma... Ma che fuori... Che cosa è fuori gioco? Ma cosa sbaglieri tu? Cosa, cosa, cosa... Che fuori gioco! Comunque a Cervi è impazzito la partita in contropiede, sta per fare l'Eurogoal a giro! Dopo l'Eurogoal di Cervi ha inaugurato il volo, l'ha annullato, siete delle brutte persone! Comunque penso che oggi veramente ci vediamo un gol di a Cervi in contropiede, perché... Impazzito! 9 minuti, ne ha già tentati 3! In contropiede, è matto! Io quel sito lo metterai prima a punta, Inzaghi, vedi te! Io a Cervi lo metterai prima a punta a sto punto! Madonna mia, come l'ha messa giù Lukaku! Madonna è partito! È partito Big Rom! Ma fa solo! Prova Lukaku! Madonna che puzzola! Però va bene Romelu, dai! Non può giocare per terra, arbitro! Lautaro che fa il difensor centrale! Ma che cacchio sta succedendo? Vabbè, giustamente, a Cervi gioca come attaccante, Lautaro fa il difensor centrale! Allegri chi? Uh, che brutta! No, fermate Olland! Fermate Olland! Oh, nana! Un muro! Madonna mia, questo è partito! Il fratello Taroko de Olland era partito! E una ragazza, ne ha già detto, mi impegno intanto con lui! Poi penso con l'originale! Azione schema! Sciala! No! Di quanto è uscita! Penso di... Questa matita si è uscita! Altro calcio d'angolo Atalanta! Non è che magari partiamo noi in contropiede? No, chiedo! Così andiamo a fare il terzo! Madonna mia, Flipper! No, il Ciolland! No, è rimasta lì! E' morto uno dell'Inter, l'ha segnato Pasalic, non è che magari è fallo e lo annullano, no, chiedo, eh! Gol convalidato, siete delle persone orribili, cerchiamo adesso di non far cazzata e facciamo il terzo! Mannaggia voi! Vabbè ragazzi, fine primo tempo, 2-1, dovevamo farne almeno 5, mi sa che non si era rotto o barella, e ci becchiamo nel secondo tempo, un medico per lui! Oddio! Ok ragazzi, iniziato il secondo tempo, cerchiamo di fare il terzo in qualche maniera! prima possibile, così non muoio definitivamente, non è che magari così, orsato, un piccolo rigorino per l'Inter, visto che non ce l'abbiamo, penso l'ultimo rigor l'abbiamo calciato, è stato quello in Champions League, no, col Benfica, no, chiedo, così, un piccolo aiutino! Corri barella, vola barella, vola barella che adesso ti rompi! Lukaku fa qualcosa, Lukaku va, sì, no, l'outi! No, ande via, calcio d'angolo! Non ci credo, ci stavano scambiando l'assist! Ma no, ma no, ma no! E se la ridi, che cacchio ti ridi Lukaku? Che bella, che benna! Prova! No, no, cosa è successo? Un flipper da una parte all'altra non ci è arrivato! Che sfiga! Dato piove! Che bello, bellissimo numero Lukaku! Brozzo! Per l'ottava! Ma come si è girato Lukaku! Mamma mia ragazzi, bravissimi! Ma come l'ha mandato in porta Lukaku! Meraviglioso! Meraviglioso e altruista il mio fratellino Brozzo! Bravo Brozzo! Attenzione, Lukaku sta recendo qualcosa all'auta! Attenzione, minaccia, lo minaccia e dopo se lo bacia! Va bene, Lukaku calma e niente! Baccino all'autaro a parte Lukaku! Siamo in diretta a TV! Bella al volo! Madonna mia, se a Cervi fa sto gol viene giù, non San Siro, viene giù Milano diretta! Madonna mia! Zidane contro il bai Leverkusen, era lui! Attenzione, calcio e punizione, Atalanta c'è un Muriel molto cattivo di calciare in porta a muraglia piena! Che gol ha fatto questo? Che gol ha fatto questo? Bene, tre minuti alla fine soffrire! Perché questo qua ha fatto il gol dell'anno! Gli è tornata perfetta! Che sfiga, non mi piace, ho toccato a un anno! Calcio d'angolo, è l'ultimo secondo per questi, no! No, no, a me prendo un infarto! A me prendo un infarto! No! No, se segna Sportiello penso che mi sentite fino in Kamchatka veramente, ve lo dico! No, Sportiello! Sì, Sportiello come pregnoli, mi becca un colpo! Sto qua che sei za milanista! Vedi za il derby! Oh, c'ho! Oh, c'ho sto cacchio! Meno mai! Meno mai che l'affiziale affina! Vabbè ragazzi, spero che il video sia piaciuto! A me ha preso un infarto! Se è così vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e tirate la campanina! Se non lo fate vengo a cercare il video con il classico telecomando! Seguitevi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok! Noi ci vediamo non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... Oh, siete matti! No, fingo a lei! Ciao! Un infarto!